cos'è il dolore neuropatico e come può essere trattato meglio con farmaci singoli o con combinazioni di farmaci se ne parla durante la 46esima edizione del congresso nazionale dell'aist dell'associazione italiana studio dolore e noi approfondiamo il tema con il professor stefano tamburin professore oggi ha parlato di dolore neuropatico cos'è il dolore neuropatico qual è la prevalenza e quali le patologie associate il dolore neuropatico viene definito come un dolore secondario una lesione malattia del sistema somato sensitivo periferico centrale la prevalenza stimata nella popolazione in generale oscilla tra i 6 e l'8 per cento le cause principali sono lesioni traumatico compressive di nervi periferici e diabete altre cause di neuropatia il patologia neurologiche come la sclerosi multipla le azioni midolleri l'ictus e altre situazioni meno frequenti ecco quindi ci sono diverse situazioni come viene gestito come viene trattato questo dolore esistono una serie di farmaci che sono utilizzati nel dolore neuropatico i principali sono i cosiddetti gabapentinoidi gli antidepressivi triciclici un inibitori dei raptek di serotonina noradrenalina gli opioidi deboli gli opioidi più forti in alcuni casi molto selezionati anche la tossina botulinica che sono i farmaci che sono nelle linee guida attuali che sono però un po vecchie risalgono 2015 altri farmaci sono in fase di studio ma l'evidenza è ancora bassa professore come utilizzare farmaci singoli o in combinazione per questo tipo di dolore al momento le linee guida definiscono come strategia migliore quella di iniziare un farmaco titolarlo fino ad osaggio che è efficace o che comunque viene tollerato e laddove tale farmaco non sia efficace non tollerato passare un secondo farmaco le terapie di combinazione sono piuttosto interessanti ma attualmente l'evidenza non documenta una maggiore efficacia rispetto al singolo farmaco e un profilo di effetti e nemmeno un profilo di effetti collaterali migliore quindi ad oggi la strategia migliore resterebbe quella del singolo farmaco professore c'è una sintomatologia o dei segni che sono collegati a questa tipologia di dolore allora si tratta di un dolore quindi il paziente lamenta un qualche tipo di dolore che solitamente descritto come diverso dal solito tra loro bruciante tra loro connotato come freddo oppure scossa elettrica tuttavia questi descrittori del dolore non sono sufficientemente adeguati per fare di angio differenziale tra un dolore neuropatico e un dolore non neuropatico la caratteristica del dolore neuropatico quella di rispettare la distribuzione di un territorio nervoso quindi quello di un nervo di una radice oppure di metà corpo di un arto e di essere associato a segni sensitivi positivi o negativi segni sensitivi negativi anestesia lipoestesia positivi manifestazioni come l'allodinia tocco una cosa invece di sentire il tocco sento dolore